Il tempo. Il tempo è la cosa più preziosa che hai. In base a come lo usi, misuri chi sei. Puoi farlo passare o averne il controllo. Puoi dedicarlo alle prime pagine o a diventare il numero uno. Puoi fissare chi sta in posa o metterti alla prova. Il tempo puoi passarlo stringendo mani o amicizie. Puoi decidere di seguire il tempo o dettare il tempo. Il tempo è tutto quello che hai per dimostrare chi sei. È ora di distinguersi.